Ernesto Sirolli, economista americano, originario dell'Abruzzo di Altino, siamo proprio dinanzi a Palazzo Sirolli, che è dal 1700 in questa località. Lei si occupa di formare imprenditori in tutto il mondo. La pandemia ha cambiato tante cose. Che cosa può insegnarci per rivalutare i nostri borghi? Io avevo tanti amici, colleghi, che erano quelli della scuola del nuovo urbanesimo, il nuovo new urbanism, sia in Australia che in America che in Inghilterra. Tutti quanti appassionatissimi delle grandi città, che io, da persona con una grandissima passione per le regioni e per gli ambienti rurali, invece detestavo. Che cosa è successo? Che durante la pandemia questi nuovi urbanisti sono scomparsi, non hanno più scritto niente, perché si sono resi conto, con orrore, che le città in un periodo di pandemia non sono sostenibili. Venendo in Abruzzo e lavorando con imprenditori anche italiani che stanno facendo un discorso di riscoperta di borghi medievali, scoprendo che ci sono 600 borghi medievali abbandonati in Abruzzo e vedendo questo desiderio da parte di chi vive in città di riuscire a respirare di nuovo, ci sono delle opportunità che solo due anni fa erano impensabili, con giovani che si stanno muovendo per riscoprire una vita diversa e che tipo di economia si crea intorno a questa volontà di respirare di nuovo e di andare a rivalutare, come abbiamo fatto qui ad Altino, tutte le casette sono state restaurate e noi stiamo facendo un restauro molto importante. Che tipo di attività economiche possiamo creare? Secondo me c'è il limite soltanto alla nostra immaginazione, vedo un futuro straordinario nei nostri borghi medievali. Raccontavo oggi qui ad Altino che nell'ultima settimana noi abbiamo fatto corsi di addestramento da Altino via Zoom con il Sudafrica, con le province più remote dell'Iran, abbiamo fatto corsi in Latin America. Questa nuova tecnologia darà la possibilità di lavorare in modo decentralizzato. Quali sono le opportunità? Le opportunità non sono soltanto nel turismo, le opportunità sono veramente dalla manifattura di prodotti artigianali che possono essere poi venduti via internet in tutto il mondo, da cultura, da logicamente il turismo, però io penso che ci siano delle opportunità straordinarie per un Abruzzo che sarà un Abruzzo vincente.